Molise a Calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Molise a Calci davvero tanti temi, tanta carne a cuocere per questa puntata il Campobasso che ha battuto 3-0 l'Alfonsine, la prima vittoria interna con il gol che ha aperto le danze che è stato del classe 98 Martinelli parleremo di questo, del primo posto dell'Olimpia agnonese condiviso con la sorprendente vastese di Gianluca Colavitto e poi parleremo dei tanti temi interessanti proposti anche dal campionato di eccellenza molisano nel quale al vertice è presente praticamente un poker di squadre allora questo e tanto altro con due ospiti che da qui a brevissimo vi presenteremo ma anche con la nostra compagna di viaggio Tabita Morgese, buonasera Tabita Buonasera a te Gianni e buonasera anche a voi cari amici telespettatori benvenuti a questa nuova e ricca puntata di Molise a Calci come sempre vi ricordo che ci potete seguire dal Lazio e dall'Abruzzo i rispettivi canali 880 e 96 potete seguirci anche in streaming sul sito www.telemolise.com inoltre potete anche contattarci se volete sulla nostra pagina di Facebook come sapete da qualche anno siamo attivi su Facebook e magari forse sbarcheremo anche su Instagram chi lo sa certamente provvederai tu a questo che sei la nostra madrina social di Molise a Calci elegantissima come sempre grazie Gianni come sempre devo ringraziare la nostra Giuseppina Graziano della boutique Smeralda che si trova a Campobasso a Piazza Pepe sempre vestiti super eleganti e anche sbarazzini devo dire complimenti allora per l'outfit Tabita allora questa sera sono venuti a trovarci Roberto Barrea preparatore atletico della Vastese buonasera e Andrea Santoro difensore del Gambatesa buonasera e allora buonasera ad entrambi ieri Roberto il colpaccio di turno della Vastese sul campo del Matelica allora era il big match tra poco vedremo dopo il primo contributo vedremo le immagini di Matelica Vastese ma ti chiederei insomma questa provasto insieme con l'Agnonese sta non dico prendendo il largo però possiamo definire le due belle sorprese ad inizio campionato ma io penso di sì tenendo conto che l'Agnonese sappiamo tutti che è partita molto in ritardo con delle difficoltà la Vastese è una matricola una neopromossa e quindi nessuno si aspettava che potessero avere questo bel bottino di punti a questo punto del campionato certamente con delle corazzate come Matelica o Fermana ci si aspettava altro però siamo veramente contenti sia per l'Agnone e ancora di più io per la Vastese che stiamo facendo veramente un bel campionato fino adesso sì state facendo un bel campionato 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte ma soprattutto Roberto metterai in evidenza il dato dei gol fatti che è di 17 gol fatti di cui 7 di Prisco Umberto Prisco, questo attaccante prelevato mi puoi ragguagliare tu dal Pomigliano esattamente e 8 gol al passivo fino a qualche turno fa la Vastese era uno dei migliori attacchi di tutta la Serie D allora come avete fatto a fare 17 gol in 6 giornate Roberto? Beh innanzitutto c'è un grosso equilibrio di squadra si lavora molto sulla fase difensiva e quindi poi successivamente sull'impostazione dell'attacco però ti dico che il grosso lo fa la qualità dei nostri giocatori in avanti abbiamo dei giocatori di grossa esperienza molto estrosi, molto complementari tra loro che ci permettono di avere diverse soluzioni in attacco e di poter giocare con più moduli diversi C'è anche l'ex Campobasso Nicola Fiore che fino all'anno scorso, anzi fino all'anno scorso fino a dicembre scorso ha giocato con il Campobasso poi anche Felice ha avuto un'esperienza ad Agnone l'anno scorso a Torrecuso lo stesso Manzo, se non vado errato poi c'è Allocca che praticamente ieri ha saltato la partita di Matelica al suo posto, pensate, ha giocato un classe 95 vale a dire Bartoli che è entrato e ha segnato è entrato dal primo minuto e ha segnato il gol del raddoppio della vastese a Matelica un'analogia con il Campobasso perché ieri era assente D'Angelo per una varicella è entrato dal primo minuto Martinelli e ha segnato il gol del vantaggio del Campobasso quindi largo ai giovani queste notizie ci fanno davvero piacere perché i giovani di qualità ecco molte volte si dice no ma è giovane, non ha esperienza i giovani bravi riteniamo giochino questa è la verità debbano giocare insomma non c'è differenza 95-96 fa parte anche questo del credo dell'allenatore del Campobasso e anche di Colavitto della vastese sì, è un'analogia che sicuramente ci fa piacere ti posso dire che Bartoli mi ha stupito ieri perché è arrivato da una settimana il tempo di integrarsi un attimo con il gruppo e ci siamo trovati con questa emergenza per un problema di allocca ma vederlo in campo ti dico sembrava che avesse giocato con noi da settimane dall'inizio del campionato personalità ottime chiusure e addirittura si è concesso il lusso del gol verso la fine della partita con un'incursione su una punizione laterale sono veramente contento che stava proprio a suo angio sì, è un ragazzo devo dire caratterialmente educato a modo in campo fa il suo lavoro l'abbiamo conosciuto da poco però già possiamo apprezzarlo per le sue qualità allora noi sentiamo gli allenatori di Campobasso e Alfonsine certo a proposito di questa partita abbiamo sentito come ci ha anticipato Gianni Raffaele Novelli allenatore del Campobasso e Luigi Candeloro allenatore dell'Alfonsine vediamo nella ripresa si è visto un Campobasso che è cresciuto notevolmente con il passare dei minuti ma noi abbiamo avuto anche due o tre pallegole il primo tempo e ci siamo persi poi nel finalizzare però l'importante ci siamo trovati su quell'occasione ma molte volte ti aiuta a trovare gol subito trovi degli spazi diversi è una squadra ben chiusa dietro e che come recuperava la palla poi ripartiva velocemente ha fatto punti proprio in questo modo qua e dobbiamo fare attenzione a non esporci poi in ripartenza avversaria però poi non si è mai disunita tranne qualche volta abbiamo perso un po' le distanze la squadra si è espressa la squadra ha cercato di voler giocare e c'era un'aggressività diversa più aumentava la partita più si arriva al sessantesimo e al settantesimo avevamo una gamba diversa fisicamente abbiamo letto fino alla fine una delle note più belle di giornata è stato il gol di Martinelli non è una novità che lei prediliga i giovani però davvero fa piacere che l'abbia sbloccata un ragazzo chiamato in caso al posto di D'Angelo che non era a disposizione insomma ha dato in là la vittoria Martinelli ma sì Martinelli è un ragazzo molto umile e serio spero che come tutti i giovani possono mandare in un equilibrio non avere degli alti e bassi perché con i giovani si lavora in un certo modo ti aspetti adesso Eme giovane bravo e poi nella prossima se dovesse commettere gli errori si viene schierato se dovesse schierato commette degli errori iniziamo a dire troppo giovane ci manca l'esperienza Mi aspettavo una partita simile perché avevamo visto giocare il campo basso e quindi mi aspettavo che era una partita del genere visto magari le occasioni che ci sono state oggi il divario di tre gol mi sembra eccessivo noi nel primo tempo soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene siamo riusciti a ripartire poche volte però abbiamo concesso penso un tiro da fuori aria che è andato sopra la traversa quindi e il gol al quarantunesimo che su angolo c'è stato forse non si di coscia sul secondo pallo dall'angolo dalla parte opposta quindi sicuramente c'è stato un errore allora ecco i due tecnici del capopasso e dell'alfonsino mentre Andrea Santoro ieri si è andato in gol un gol anche bello cioè si è stato lasciato da solo però insomma in quel momento pesava molto quella rete il pareggio perché il Termoli aveva iniziato meglio di voi Gambatesa Termoli la partita in questione siamo partiti un po' con quel pizzico di paura magari causato anche dalle due brutte uscite in campionato con Macchia di Sernia con gli Sernia in casa quindi avevamo per forza fare risultato e dopo il mio gol dopo l'1-1 abbiamo ritrovato la giusta concentrazione la giusta serenità e quindi poi alla fine siamo riusciti a trovare il secondo e il terzo gol nel giro di poco tempo Senti match clou Macchia di Sernia 0-0 ti aspettavi finisse senza reti? Senza reti no un po' anomalo come risultato senza reti no però ero convinto che l'Isernia riusciva in qualche modo a tenere testa a un'ottima squadra con il Macchia di Sernia perché so che c'è un mister che lavora molto prepara molto bene la partita dei ragazzi giovani umili che che svolgono il loro compito quindi sapevo che l'Isernia riusciva a mettere in difficoltà il Macchia di Sernia probabilmente anche sulla scorta della precedente partita contro il Vasto Girardi nella quale c'era stato un 1-1 da parte dell'Isernia ma anche con il rischio di vincerla la partita ricordiamo che l'Isernia era in vantaggio poi si è fatta raggiungere poi ha sperato un gol nel finale mi riferisco a quella contro il Vasto Girardi quindi anche sulla scorta di quell'esperienza sì sicuramente l'Isernia l'Isernia quest'anno farà un campionato di vertice e sicuramente darà fastidio a molte squadre allora Tabita abbiamo selezionato prima del gol più bello che andranno a decidere i nostri ospiti anche i gol di Matelica Vastese finita 0-2 prego possiamo vedere questi gol questo è il primo Nicola Fiore vedete lo stacco praticamente a tu per tu quasi con il portiere da parte di Prisco questo è il settimo gol stagionale da parte di Prisco nel finale di tempo ecco il gol di un po' una mischia proprio di Bartoli che la risolve la palla entra c'era anche una bella cornice di pubblico da parte Vastese Roberto assolutamente sì anzi circa 200 spettatori colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che sono sempre calorosissimi ci seguono dappertutto anche il numero consistente infatti ieri credo 200 unità a Matelica ma lo spettacolo più bello è l'Aragona vedere l'Aragona pieno la curva d'Avalos che fa il tifo per tutta la partita è bellissimo allora a proposito del campo basso diciamo che D'Angelo ha buone probabilità di recuperare così come l'altro difensore centrale Torvic dovrebbe essere arruolabile a livello burocratico perché sapete tutti che si stava aspettando il pass per quest'ultimo quindi dovrebbe essere arruolabile perché da fonti nostre fonti vicine alla società il pass sarebbe arrivato insomma intorno al 10 di ottobre siamo in data quindi Torvic dovrebbe essere a disposizione c'è in corso l'organizzazione di vari pullman per Vasto per lo stadio Aragona di Vasto una trasferta davvero abbordabile dal punto di vista chilometrico quindi si stanno organizzando dei pullman c'è in corso uno già praticamente dovrebbe essere completato così mi hanno riferito alcuni tifosi ieri fuori dallo stadio un altro in fase di organizzazione lo sta organizzando il tifoso Jacopo Stivaletti il quale ci ha comunicato anche un numero di riferimento lo diamo il 328 62 40 643 dunque ci aspettiamo una buona cornice di pubblico da parte vastese come diceva Roberto Barrea ma sicuramente anche da parte Campobassana Tabita sarai all'Aragona di Vasto tu domenica lo sai sono in redazione quindi verrei volentieri però vabbè facciamo un'altra volta magari se giocano di sabato sei impegnato vogliamo chiedere l'anticipo per far venire Tabita va bene l'Olimpia agnonese andrà a Iesi domenica quindi c'è questa squadra che invece ha vinto 4 ecco il Vasto 3 vittorie consecutive l'Olimpia agnonese 4 ed è una squadra in discreta forma come voi insomma l'altra sorpresa di inizio stagione sì è una squadra in forma ti dico la verità te lo ripeto non me lo aspettavo perché partire così in ritardo ti comporta comunque delle difficoltà da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista tattico organizzativo della squadra però a questo punto dobbiamo fare i complimenti a Del Grosso sta facendo un ottimo lavoro ai ragazzi che stanno recependo le sue le sue direttive stanno andando veramente bene sono contento di questo una squadra molisana che va bene in campionato e oltretutto ha dimostrato anche una grossa personalità grosso carattere perché ribaltare la partita domenica non era assolutamente facile sì lo ha fatto nel finale di tempo praticamente contro un chiedi che continua a macinare solo sconfitte ieri la sesta consecutiva allora Roberto e Andrea noi facciamo una rubrica nella nostra trasmissione da decretare il gol più bello ovviamente con motivazione lo abbiamo pescato nella sesta giornata di andata di Serie D li andiamo a vedere insieme con l'aiuto della regia vediamo i tre gol in ordine di classifica quindi la partita numero uno è Fermana San Marino il gol di Marolda vedete Marolda che viene lanciato poi c'è batte con il sinistro il portiere del San Marino una partita molto delicata vinta dalla Fermana poi il gol di Massetti del San Nicolò in Re Canatese San Nicolò vedete questo tiro di Massetti praticamente sotto la traversa vincerà 3-0 il San Nicolò poi qui allo stadio di Cesena Manuzzi la girata di Ferri ecco man mano li possiamo andare a rivedere così i nostri ospiti si possono fare anche un'idea un po' più compiuta di tutti e tre i gol ripeto Marolda in Fermana San Marino ecco scorriamo perché c'è questo lancio davvero profondo dalle retrovie della Fermana una situazione di 1-2 in vantaggio Marolda che poi praticamente è un cecchino non si fa pregare due volte Marolda l'anno scorso era in Molise all'Olimpia agnonese poi Massetti del San Nicolò allo stadio di Re Canati Re Canatese San Nicolò finirà da 0-3 quindi un espluato il San Nicolò in trasferta e poi come ho detto allo stadio Manuzzi di Cesena il gol di Ferri del Romagna centro in Romagna centro Jesina questo è ancora il gol del San Nicolò e poi ecco dei gol non facili da scegliere quello che è secondo loro il più bello vedete lo stadio di Cesena che siamo abituati a vedere su Sky pieno in occasione delle partite del Cesena di Serie B qui era praticamente tutto vuoto allora a voi cominciamo da Andrea Santoro mi è piaciuto molto il gol di Ferri un gol da attaccante puro in mezzo all'area di rigore non era facile metterla dentro dall'isola soprattutto vedendo la palla alle spalle quindi secondo me il gol più bello è quello di Ferri Ferri del Romagna centro Roberto Barrea vince Ferri vince Ferri vince Ferri sei d'accordo anche tu? sì sono d'accordo perché un gol di pregevole fattura di destrezza oltre al movimento di smarcamento è riuscito ad anticipare difensore e portiere in un attimo facendo gol l'avrei detto Marolda sai tu avresti detto Marolda perché sì mi è piaciuto proprio il gesto suo decisivo a me le persone decise non lo so mi piacciono quindi praticamente due per Ferri uno per Marolda diciamo che vince Ferri secondo i nostri ospiti però anche senza nulla togliere a Marolda della Fermana che è un signor attaccante ecco tu lo conosci bene lo conosciamo bene anche in Molise perché ha fatto davvero tanti gol a doppia cifra con l'Olimpianionese la Fermana da tenere d'occhio? la Fermana noi ci abbiamo giocato settimana l'altra settimana abbiamo vinto 2 a 0 lì non mi ha impressionato molto però sai bene che non possiamo giudicare da una partita come organico è un'ottima squadra poi con l'acquisto di Marolda che è un giocatore che fa la differenza ieri ho preso due campi quello di Matelica e anche quello di Fermo non proprio in buone condizioni non so se mi confermi allora ti confermo quello di Fermo ti confermo quello di Fermo di Fermo invece quello del Matelica sembra così ma è nuovissimo sì è un sintetico di nuova generazione e dalle immagini sembra un po' dissestato perché ancora non è completamente ultimato intasato tu sai bene che il sintetico ha bisogno di un intaso particolare ci vuole un po' di tempo ma è fantastico ah perfetto quindi era solo un'impressione visiva mentre quello di Gambatesa sta in buone condizioni è un sintetico anche quello di Gambatesa il campo di Gambatesa ormai da anni manda di questo centro quindi è un lusso per il paese anche per il campionato di eccellenza in Molise perfetto allora a Campobasso Tabita ci sono da analizzare alcune situazioni di offside e noi le andiamo a vedere certamente vediamo il primo blocco della Movia alla cura della direttore Antonia Di Lallo in collaborazione con Carburanti e lubrificanti paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore Sesto minuto del primo tempo a Selvapiana prende palla Fioretti che poi tocca per Improta che viene fermato per una posizione di fuorigioco ecco fermiamoci qui proprio nel momento in cui tocca Fioretti con il nostro regista Donato Mignogna in realtà vedete Improta con la maglia gialla che sembra effettivamente al di là della linea difensiva della compagine romagnola ecco questo è il tocco anche perché non ci sono altri giocatori in maglia blu oltre quello sull'estrema destra del teleschermo andiamo avanti ecco fermato Improta probabilmente c'era la posizione di fuorigioco quarantatresimo del primo tempo sblocca la partita il campo basso cross di Meduri vedete Fioretti che è bravo ad arrivare sul pallone andiamo un attimo dietro perché in sostanza fa da ponte vedete Fioretti va incontro al pallone a centro area c'è un contrasto con un avversario ma riesce a sfiorare il pallone con la nuca e Martinelli ragazzo di campo basso del 1998 vedete va ad insaccare il gol della vita perché era al debutto in serie D con la maglia del campo basso e va a realizzare anche il gol che sblocca la partita sicuramente conserverà questo ricordo per tutta la vita il giovane ragazzo campo bassano che figuratevi l'anno scorso non era stato preso mai in considerazione dai famosi tecnici del campo basso sia Cappellacci che Favo undicesimo del secondo tempo andiamo un attimo dietro perché anche qui l'azione del campo basso è stata fermata per un fuorigioco questa volta di Fioretti qui non abbiamo il campo largo parte il pallone seguiamo la traiettoria ecco fermiamoci appena compare Fioretti vedete il giocatore si vede sulla sinistra del teleschermo con la maglia gialla qui il pallone già ha effettuato gran parte della sua corsa e Fioretti in questo momento è appena al di là della linea difensiva dell'Alfonsine a nostro avviso questo poteva anche non essere fuorigioco se torniamo un attimo dietro vorrei farvi notare la posizione del collaboratore dell'arbitro il signor Panozzo di Castelfranco vedete che non è in linea perché vedete la posizione di Fioretti poi vedete in fondo al teleschermo dove il guardaline quindi non era in linea e questo già è un errore gravissimo perché non era posizionato bene per rilevare un eventuale fuorigioco l'unico pericolo per la porta del campo basso è venuto direttamente su calcio d'angolo anche qui torniamo un attimo dietro perché dal calcio d'angolo batte Innocenti traiettoria a girare sul primo palo vedete non arriva il portiere del campo basso Palumbo ma la sfera colpisce il palo sfortunato l'Alfonsine ma è stata in sostanza l'unica opportunità per la compagine ospite Allora Roberto Barrea ti vedevo attento così come vedevo attento anche Andrea Santoro le due situazioni di offside diverse ma la prima e la seconda ecco ci sono delle molte perplessità sulla seconda più che sulla prima Occhio non possiamo dare con certezza un giudizio preciso però mi sembra che non ci fosse il fuorigioco su Fioretti assolutamente Ecco proprio per un fatto di tempo che è passato dal lancio molto lungo di Voltasio all'indirizzo dello stesso Fioretti proprio per questo e mentre notavamo Innocenti molto bravo nei calci di punizione e nei calci da fermo dell'Alfonsine diversi gol dell'Alfonsine li ha siglati lui su calciopiazzato forse vista l'età non è un giocatore di grosso movimento però il piede ce l'ha buono Il piede ce l'ha buono Andrea Santoro invece il gol del Campobasso di Martinelli credo conosci tu Martinelli perché è un ragazzo che frequenta Campobasso figlio di Domenico Martinelli allenatore dello Ielsi allora il gol del Campobasso chiaramente c'è una complicità a livello di cronaca lo diciamo del portiere dell'Alfonsine però insomma è stato lesto Giuseppe Martinelli Sì è stato bravissimo lui ad anticipare il difensore e buttare in rete però sicuramente lì il portiere una volta che esce dalla sua porta deve per forza prendere la palla perché è obbligatorio nell'area nell'area piccola ha detto su Facebook Giuseppe Martinelli questa davvero è la mia pelle la maglietta rosso-blu non è una maglietta ma è una pelle e allora noi siamo contenti che a Campobasso ecco non ci venite ad etichettare come tifosi o roba del genere però tra un anno e l'altro siamo contenti che ci siano persone così attaccate alla causa Tabita andiamo qualche minuto di pubblicità ci vediamo tra poco restate con noi eccoci tornati dalla pubblicità siamo sempre con Gianni Bruno Roberto Barre e Andrea Santoro Gianni se mi permetti avrei una domanda per Andrea prego Andrea è tutto tuo senti Andrea nel prossimo turno giocherete contro il Treppini in casa loro ma secondo te il Treppini è una delle squadre che fino ad ora non ha subito sconfitte come il Vasso Girardi il Macchia e l'Isernia e il Venafro è una squadra da temere secondo te noi siamo noi siamo una squadra con con ottime qualità quindi siamo consapevoli dei nostri dei nostri mezzi dei nostri limiti e sappiamo che che sabato non sarà una partita facile però quest'anno come ha detto anche il presidente Agambatesa si vuole fare un campionato diverso dagli altri anni un campionato dove si punti magari alle prime cinque posizioni e per poter raggiungere questi obiettivi comunque bisogna andare a Treppini e giocarsela alla pari e cercare di fare risultato anche lì quindi spero e credo che faremo faremo bene Tra l'altro Treppini ti annuncio Andrea il miglior attacco dell'eccellenza con 16 gol segnati una delle 4 che praticamente sono a 13 e guidano questa classifica del campionato di eccellenza ti sottopongo dei numeri del Gambatesa 12 gol fatti è un buon bottino dopo 5 giornate però evidentemente se c'è un problema c'è in difesa con 11 gol al passivo ma noi noi giochiamo con un 4-2-3-1 mister massimo barometro mister che improntato all'attacco dove la sua mentalità appunto è fare un gol più degli avversari quindi è normale che una partita crei molto però concedi anche tanto e basta vedere i risultati 5-3 5-3 ieri con il Termoli 3-1 abbiamo vinto 3-1 con il Pietra perso 5-0 purtroppo con il Macchia di Sernia quindi è un modulo che crea tanto ma comunque concede anche tanto e dovremmo cercare di trovare il giusto equilibrio con il passare delle partite perfetto allora vediamo il primo contributo del campionato di eccellenza esordiamo con il match clou terminato senza gol Tabita esattamente riguarda appunto il Macchia e l'Isernia abbiamo sentito nella partita Fabio Sabatino un giocatore della Macchia e Armando Iabboni un giocatore dell'Isernia vediamo Fabiano Sabatino difensore del Macchia di Isernia arriva un punto nel big match con l'Isernia bene il primo tempo un po' male nella ripresa sicuramente hai fatto un'analisi della partita giusta il primo tempo abbiamo espresso un buon gioco abbiamo creato diverse occasioni la gol penso che siamo partiti pure i primi dieci minuti del secondo bene creando due palle con le nitide poi è venuto fuori l'avversario che con lanci lunghi però con un calcio studiato proprio così ci ha messo in difficoltà potevate fare di più però sicuramente potevamo fare di più nella gestione della palla non siamo stati capaci di farlo questo purtroppo è un limite che è venuto fuori solo oggi speriamo che sia solo un caso Armando Iabboni dunque quanta amarezza su quel sinistro finale davvero hai concentrato tutta la forza di una partita su quella palla l'avere è stata una questione di centimetri 9 volte su 10 la palla va dentro attraversa interna vabbè dai sono contento perché è stata una bella partita i ragazzini aspettavo una risposta dai ragazzini e niente sono fiducioso per il proseguo del campionato ecco siete una squadra a mio modo di vedere molto molto amalgamata siete molto diciamo cattivi nel senso vedo tutta gente che si sacrifica gente che non ritira il piede questo è sicuramente un motivo in più per voi perché c'è possibilità di crescita ma questa è la base di tutto sacrifici intensità voglia sputare sangue queste sono alla base alla base di un giocatore noi abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi tanti ragazzi pronti e con margine di crescita quindi sono molto fiducioso sono molto fiducioso per le altre partite allora palo dell'Isernia poi abbiamo visto la traversa del Macchia un'altra traversa clamorosa di Ghiaboni al novantesimo Roberto Barea probabilmente il Gambatesa ha scelto l'anno peggiore per alzare l'asticella dei suoi obiettivi perché qui vediamo almeno per ora ci sono alla quinta giornata va a sto girare di Macchia Treppini a 13 Isernia a 10 con un punto di penalizzazione poi c'è proprio il Gambatesa con il Guionese insomma c'è davvero tanto traffico per entrare come diceva Andrea Santoro tra le prime cinque questo sicuramente però ne parlavo appunto prima con lui tolte queste prime quattro squadre che hanno qualcosa in più credo il Gambatese è attrezzato bene ha delle ottime individualità un allenatore che spinge sempre per vincere le partite penso che può puntare tranquillamente i playoff allora a seguire Cliternina Vasto Girardi altra pretendente al primo posto questo Vasto Girardi che si è imposto con il punteggio di 3 a 0 sul campo della Cliternina la Cliternina praticamente ha fatto cinque sconfitte consecutive non è troppo entusiasmante il prossimo turno dove andrà proprio sul campo dell'Isernia Tabita nel posto gara abbiamo sentito Paolo Scampamorte attaccante del Vasto Girardi difensore difensore del Vasto Girardi che lo scuse Antonio Iannantoni allenatore della Cliternina intervistati per noi Pino Somma Paolo Scampamorte è una vittoria importante sul campo della Cliternina sofferta però meritata è un risultato che tra l'altro vi dà anche la leadership del campionato Sì oggi siamo di qui come hai detto bene tu forse siamo stati cinici il termine è giusto perché venivamo comunque da una gara con l'Isernia non giocata benissimo però sempre con un risultato positivo allora abbiamo detto domenica siamo più cinici e chiudiamo subito la partita e prendiamo questi tre punti importantissimi Alla fine sono arrivati un po' soffrendo però vi consegnò anche il primo posto in classifica sicuramente importante sul fattore psicologico per il proseguo della stagione Sì è normale quando si punta obiettivi importanti non devi mai perdere colpi noi l'avevamo perso domenica ieri l'ha perso diciamo in macchia e sapevamo che comunque la Cliternina è ultima però aveva dei valori la risposta la risposta della squadra è una risposta oggi importante perché abbiamo fatto secondo me un'ottima partita sia dal punto di vista agonistico ma anche dal punto di vista tecnico loro hanno vinto la partita diciamo ci può stare il risultato parla giusto ma se noi facevamo un risultato oggi non avremmo praticamente rubato niente Allora Andrea Santoro ci sono delle recriminazioni per alcuni punti persi per quella partita contro l'Isernia ancora sono vive queste recriminazioni Sì perché magari quei tre punti ci portavano lì a meno uno dalla vetta però il nostro campionato non è quello però è normale che tre punti facevano comodo facevano bene alla squadra è una partita strana che errori del genere ti capitano una volta ogni 5-6 campionati però tutti in una partita non è stato poi facile da digerire insomma però ci siamo ripresi bene con questa vittoria a Termoli quindi continueremo Roberto Barrea facciamo questo giochino se dovessi levare un giocatore a Novelli domenica Martinelli toglieresti Martinelli sì allora probabilmente uno pensa Sudanti in prota in contropiede ci hai preso in contropiede allora vabbè poi chiederemo anche a Novelli se dovesse togliere pensiamo Novelli potrebbe rispondere Prisco la più scontata come risposta però potrebbe rispondere Prisco però abbiamo anche visto che insomma questa provasto nonostante le assenze perché l'assenza di Allocca era pesante è riuscita a supplire con profitto a questa assenza è un grande gruppo Marinelli Marinelli l'attaccante Vito Marinelli comunque ci dà sempre il suo contributo importante è un buon giocatore attualmente sta entrando a partita iniziata però è stato decisivo ad esempio col Monticelli ha preso un rigore importante è un buon giocatore ProVasto ne ho promossa tu collabori con l'allenatore Colavitto praticamente da giugno da questa estate è proibita la parola le due parole Lega Pro a Vasto? Assolutamente sì se le dici per ora sono proibita conoscendo il mister non bisogna assolutamente pensare a qualcosa di più lontano della prossima partita quindi domani faremo allenamento pensando al campo basso esclusivamente al campo basso sarebbe un errore troppo grosso sentirsi appagati e pensare già ad una Lega Pro ti ripeto è una matricola è una squadra neopromossa per dieci undicesimi nuova quindi ancora da amalgamare bene ancora i ragazzi devono digerire l'idea di calcio di Colavitto ma pensiamo al campo basso per ora matricola hai detto bene terribile perché è prima in classifica e con i suoi 14 punti la delusione più forte per ora il Matelica come avversario lo stai dicendo? nel senso le prime 5 giornate guarda penso Fermana mi aspettavo qualcosa di più dalla Fermana il Matelica comunque si è dato da fare ha cercato di fare la partita è stato pericoloso in un paio di occasioni Fermana li abbiamo proprio battuti di netto sono state forse anche troppo pesanti le assenze di Esposito e Borgese beh togliere Esposito in una squadra si sente pesante io ho parlato con lui all'inizio della partita un infortunio che si porta avanti già da una quindicina di giorni per noi è stata una manna dal cielo sicuramente avremmo fatto sicuramente la nostra partita però Esposito è un giocatore di altra categoria tra l'altro in bilico l'allenatore del Matelica Clementi che alla vigilia rischiava prima di questa partita adesso ha perso ovviamente monitoreremo la situazione in settimana ci potrebbero essere delle novità da vita procediamo con il campionato di eccellenza certamente è stata ricca e piena di emozioni la gara tra Gambatese e Termoli finita 5 a 3 il nostro Francesco Brunale ha intervistato per noi Massimo Apicella allenatore del Gambatesa e Gianni Precali allenatore del Termoli vediamo Massimo Apicella innanzitutto complimenti per la vittoria non era semplice 5 a 3 primi 20 minuti difficili sembravate quasi avere ancora le scorie delle due sconfitte consecutive poi il gol di Santoro vi ha come se liberati sì sì i primi 20 minuti stavamo proprio ancora pensando la partita di macchia che non eravamo ancora entrati in partita loro bravi a prendere diciamo su un calcio d'angolo una palla brava numero 8 che ha fatto un bel gol dopo abbiamo iniziato da giocare e Santoro ha fatto diciamo sono riuscito a fare l'1 a 1 subito dopo 25 minuti forse di negativo c'è il fatto che anche sul 4 a 2 doppia superiorità numerica avete preso il 4 a 3 diciamo per un allenatore queste sono cose da segnare con la matita con la penna rossa sì 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 non si può prendere il 4 a 3 con 8 contro 2 in contropiede e loro segnare non prende niente proprio una squadra di esperienza non prende neanche un gol siamo partiti bene siamo andati subito in vantaggio 1 a 0 dopo ci siamo un pochettino spenti abbiamo avuto queste tre imbucate sono partiti bene a destra e l'ultimo una ripartenza però l'avevo detto ragazzi tra primo secondo tempo non penso che il Gambatesa avrà questa reazione o comunque potrà correre per tutti i 90 minuti così abbiamo cambiato qualcosa abbiamo messo Saleno dentro come seconda punta terza cosa i primi dieci minuti bene il possesso siamo arrivati al 3 a 2 e poi un'altra volta quindi abbiamo giocato i primi dieci minuti del primo tempo e i primi dieci minuti del secondo tempo dopo di che ci siamo anche un po' alla fine nervositi è andata a finire come andata dispiace perché ripeto ci stanno altre partite rimanere con tre giocatori in meno noi già non è che siamo tanti tanti e quindi sarà un po' duretta sarà duretta dice Gianni Pregali hai visto il gol di Andrea Santoro Roberto? complimenti Andrea come lo descrivi come lo fotografi perché poi sì probabilmente all'inizio ho detto eri libero però c'era un uomo sei stato bravo ad anticipare l'avversario il difensore del termo mi rettifico quello che ho detto all'inizio l'ho rivisto adesso inizialmente ero solo poi nel momento in cui la palla scendeva comunque il difensore mi ha recuperato la posizione e quindi ho dovuto affrettare il colpo di testa mentre la palla scendeva era difficile trovare il tempo giusto per andare a impattare la palla bravo quindi bravo Andrea Santoro bravo anche da mister Barrea hai sentito le dichiarazioni di Apicella ha detto non possiamo prendere il 4 a 3 in una situazione di 2 contro non so 4 o 5 che eravate voi del Gambatesa sì noi noi Gambatesa siamo una squadra che quando cala di concentrazione di attenzione in mezzo al campo facciamo tanta difficoltà quindi dobbiamo sempre rimanere concentrati per poter fare quel campionato che che ci aspettiamo un po' tutti perché se non c'è quel tipo di concentrazione poi facciamo determinati errori che ci portano a fare un campionato anonimo come come si è fatto negli anni precedenti non anonimo comunque un campionato di medio con altri obiettivi con obiettivi più ridimensionati Tabita vuoi fare una domanda a uno dei nostri due ospiti certo al nostro Roberto prego va bene voi siete i primi in classifica con la vastese secondo te qual è il successo di questa squadra forse nei ragazzi magari l'ultimo quello che stavi dicendo all'inizio che si è integrato benissimo magari anche la coesione con la squadra hai indovinato io penso che avere un gruppo squadra amalgamato fa la differenza al di là del discorso tattico tecnico che sia sono ragazzi che hanno creato un buon gruppo che si vedono al di fuori del campo che si aiutano in campo e i risultati sono questi allora ultimo contributo dal campionato di eccellenza c'è la seconda sconfitta consecutiva maturata dal campo di pietra sul difficile campo del sesto campano è sempre difficile passare sul campo di sesto campano tra l'altro sesto campano che ha vinto la prima partita stagionale Tabita abbiamo raccolto le opinioni di Francesco Capaccione attaccante del sesto campano e Lorenzo Villione allenatore del campo di pietra in servizio di Per Paolo Modai non puoi che essere soddisfatto di questo risultato a parte la mia doppietta oggi era importante fare i tre punti venivamo da da tre pareggi sicuramente fatti con squadre importanti però era fondamentale oggi fare i tre punti e giungere alla vittoria ecco una vittoria che comunque fa classifica ma fa soprattutto morale è chiaro sul 3 a 1 secondo te forse si poteva gestire un po' meglio visto che avete preso poi il 3 a 2 nei minuti di recupero sì forse abbiamo sofferto un po' più del dovuto loro erano in 10 noi eravamo in superiorità numerica quindi sicuramente avremmo potuto gestirla un po' meglio però poi alla fine voglio dire l'importante è che abbiamo portato a casa questi tre punti che sono fondamentali per il proseguo del campionato siamo con Lorenzo Villione allenatore del campo di pietra mister diciamo insomma una partita abbastanza sofferta avete perso 3 a 2 ma comunque ci avete creduto fino alla fine tanto male non siete andati assolutamente no per me abbiamo fatto una grossa partita a livello di intensità di voglia dovevamo riscattare comunque la brutta la brutta prestazione fatta domenica scorsa in casa con la Live della Live quindi io non posso recriminare nulla non posso rimprovere nulla ai miei ragazzi perché a livello di voglia e intensità abbiamo fatto abbiamo fatto davvero bene certo è che siamo una squadra totalmente giovane e molto inesperta in alcune cose quindi pecchiamo di inesperienza sicuramente e poi i gol che abbiamo subito ancora una volta sono errori nostri individuali sui quali dovremmo migliorare abbiamo preso due gol come è successo per domenica scorsa dal cross dal fondo e un'altra su una disattenzione del nostro terzino sono cose sulle quali lavoriamo non recriminano né sulle assenze né su alcune decisioni discutibili dell'arbitro gli errori se abbiamo perso è colpa nostra e guardiamo avanti allora eccoci qui tornati in studio dobbiamo fare una piccola pausa dopo una seconda parte davvero piena di contributi e di idee commenti interviste opinioni quindi un pit stop sì certo ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ci vediamo tra poco di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria abbiamo visto l'ultimo contributo quello proveniente da Sesto Campano dicevamo Andrea Santoro sempre campo difficile da espugnare sì Sesto Campano ormai è da anni che fa l'eccellenza molisana ed è una squadra che ha avuto sempre ottimi piazzamenti in campionato quindi anche quest'anno farà il suo il suo campionato e in casa difficilmente lascerà passare gli avversari poi c'è allora c'è la Coppa Italia mercoledì voi avete la Liffe che è una squadra che verificheremo una squadra che aveva cominciato male con tre sconfitte consecutive poi ha fatto praticamente sei punti proprio contro il campo di Pietra domenica scorsa e poi battendo nell'anticipo 3 a 1 il Guionesi Tabita il secondo blocco della Moviola cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con C'è l'inno c'è l'inno i suoi gelati un dolce privido di felicità carburanti e lubrificanti paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada da Iontapede nella zona industriale Campopasso ripa limosani carburanti e lubrificanti paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore big match a Capriati qui ha protestato il macchia di Sernia siamo al 14esimo del primo tempo per un presunto fallo di mani di Staffieri vedete difensore dell'Isernia ma se guardiamo bene il cross di De Vizia va a finire sulla pancia in sostanza di Staffieri sicuramente non sul braccio destro e nemmeno sul braccio sinistro a parte poi che Staffieri era fuori area ma hanno giudicato bene l'arbitro la signora Travascio di Moliterno e anche la collaboratrice in fondo al teleschermo Danila Donofrio di Termoli vedete proprio lì e si accorge perfettamente che non c'è nessuna irregolarità 24esimo del secondo tempo testa di Iabboni che offre a Cantelmo ragazzo del 98 Isernino davvero molto bravo torniamo un attimo dietro perché Cantelmo vedete vede che davanti a lui c'è Mancini e allora come fare a superarlo vedete pensa ad un colpo di testa Mancini è giocatore esperto ma Cantelmo vedete con il colpo di testa si porta il pallone in avanti poi è solo sfortunato perché vedete la palla passa tra i piedi del portiere del Macchia ma poi va a colpire incredibilmente il palo Quilliserni avrebbe potuto vincere la partita 18esimo del primo tempo a sesto Campano pareggia il campo di Pietra con un calcio di rigore il fallo è questo vedete l'uscita di Russo su Zurlo torniamo un attimo dietro ma non c'è contatto perché vedete Zurlo lancia il pallone avanti con il destro poi praticamente è quasi lui a cercare il contatto con il piede destro sulla coscia sinistra del portiere del sesto Campano ecco vedete questo è il momento ma è Zurlo che trascina praticamente il piede quando era già in volo qui non c'era il calcio di rigore concesso invece dal signor Saluppo di Campobasso poi calcio di rigore che è stato vedete c'è anche l'ammunizione di Russo che non riesce a spiegare a Saluppo che lui non aveva colpito Zurlo fatto sta che poi Zurlo dagli 11 metri pareggia 42esimo della primo tempo a Nuova Cliternia ha protestato la Cliternina per un contatto tra Cea con la maglia blu del vasto Girardi e Gabsi ma se vediamo bene ecco i due giocatori in questo momento Cea mette il piede sinistro e va a colpire nettamente il pallone che vedete si sposta nettamente nella sua traiettoria quindi ha visto bene l'arbitro il signor Vasile di Isernia perché qui non c'era assolutamente nulla di irregolare calcio di rigore invece concesso al vasto Girardi 38esimo del secondo tempo tiro di Amicone davanti a lui c'è Longo vedete ecco questo è il momento braccio largo di Longo che va a stoppare praticamente il pallone questo è calcio di rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor Vasile poi trasformato dagli 11 metri da Contestabile possiamo andare avanti con le immagini e vedere anche il momento in cui Contestabile va a battere dagli 11 metri 17esimo del secondo tempo a Gamba Tesa dove ha vinto il Gamba Tesa 5 a 3 su un termoli troppo nervoso torniamo un attimo dietro perché Vinci Guerra fa davvero tutto benissimo andiamo un attimo dietro perché azione prolungata del numero 10 con la maglia vedete verde andiamo dietro perché bisogna far vedere l'azione di Vinci Guerra quando parte ancora dietro perché Vinci Guerra praticamente entra in area eccolo qui da qui entra in area si libera di due avversari del termoli con una finta porta il pallone sul sinistro altra finta vedete invece di battere fa andare a vuoto i difensori del termoli poi però quando batte praticamente alza troppo la mira sarebbe stato davvero un euro goal di Vinci Guerra 45esimo del secondo tempo a Rocca Sicura dove il San Martino si era difeso bene questo è il tiro di Cristina numero 3 del Rocca Sicura vedete il pallone poi va a battere contro la faccia interna del palo alla destra del portiere Figliola però se andiamo un attimo dietro vediamo che il portiere secondo noi impiega veramente troppo tempo a capire che si sarebbe dovuto spostare all'indietro anzi non si tuffa nemmeno perché poi è scavalcato dalla traiettoria e quindi il Rocca Sicura vince con questo bel gol però favorito a nostro avviso anche da un'indecisione del portiere del San Martino infine siamo a Baranello dodicesimo del primo tempo c'è questo calcio di punizione di Di Chiro ricordiamo che poi ha vinto il Molise 3 a 0 salta in barriera il numero 11 dell'FC Molise Franciosa che alza il braccio destro il pallone colpisce il gomito di Franciosa poi si impenna questo però era calcio di rigore l'arbitro il signor Mastroianni di Serna tra l'altro vedete posizionato benissimo non capiamo francamente per quale motivo non abbia concesso il rigore perché si vede nettamente che Franciosa colpisce con il gomito qui l'arbitro avrebbe dovuto concedere un calcio di rigore in favore del Baranello invece ha lasciato colpevolmente proseguire Roberto Barrea sul calcio di rigore assegnato al campo di Pietra praticamente non c'è contatto tra il portiere del sesto campano e Stefano Zurlo sembra di no anche se l'arbitro è tratto in inganno dal probabilmente dalla velocità della falcata di Zurlo della corsa Zurlo ha trascinato un po' la gamba traendo in inganno l'arbitro come dicevamo prima Zurlo è maestro in questo bisogna premiarlo bisogna premiarlo ha avuto il campo di Pietra ha avuto il calcio di rigore davvero lampante anche quello non dato al Baranello inspiegabilmente non dato perché poi questi sono movimenti innaturali mentre Cantelmo dell'Isernia tu lo conosci bene un giocatore molto valido Andrea Santoro l'anno scorso stava nella Juniors del mister Fabio Di Rienzo e ha esordito con noi proprio contro il campo basso se non voglio se non vado errato e poi ha fatto anche qualche altra presenza ed è un giovane interessante un ragazzo un ragazzo secondo me validissimo che farà bene sta facendo bene perfetto top e flop andiamo a intuito lo dico? no? diciamo un top forse si può individuare e flop no e flop no va bene va bene vediamo il top e flop di questa settimana top di giornata Giuseppe Martinelli difensore classe 98 del campo basso che segna il suo esordio con la maglietta rosso-blu bravo il molisano Giuseppe che sblocca a fine primo tempo lo 0-0 ma bravo soprattutto a chi fa giocare i giovani che valgono flap da trovare nel campionato di promozione a Baranello sul raddoppio dell'FC Molise siglato da Tripodi ci mette del suo il portiere Manocchio che non trattiene cose che possono capitare ad una bocciatura seguiranno momenti migliori per un Baranello che sta stentando ad ingranare in questo inizio di stagione Allora Roberto Barrea abbiamo visto il top dopo la papera sul gol di Tripodi il portiere Manocchio ha chiesto di uscire e l'allenatore di Chiro ha detto no rimani in campo tu che avresti fatto? Io avrei fatto lo stesso concordo con il mio amico Manu che con la sua esperienza secondo me ha dato fiducia al ragazzo toglierlo lo avrebbe psicologicamente buttato ancora più a terra invece gli ha dato fiducia e sicuramente lo aiuterà nell'affrontare con più decisione ed esperienza le prossime difficoltà Quindi scelta corretta di Emanuele di Chiro Allora noi siamo in conclusione Tabita io do l'appuntamento a questo punto come si dice in questi casi Roberto ci vediamo domenica all'Aragona di Vasto sicuramente ci sarà un buon pubblico su questo non ci piove e speriamo una bella giornata di sport io la vedo come una gara aperta almeno sulla carta ecco la vigilia siamo a lunedì manca tempo però la vedo aperta questa Vastese Campobassa sa dubbio tutte le partite sono aperte a maggior ragione questa dove si scontrano due squadre che giocano a viso aperto il Campobasso viene da una bella vittoria con l'Alfonsine la Vastese sta facendo il suo campionato con estrema dignità sarà una bellissima partita sicuramente la cosa più bella la vedremo anche sugli spalti in bocca al lupo in settimana sicuramente sentiremo anche Gianluca Colavitto allenatore della Pro Vasto complimenti dunque a te e a quello che state facendo a Vasto grazie Andrea Santoro in bocca al lupo per domenica anzi sabato anticipo contro il Treppini ma tese sicuramente un test probante ne avete avuti molti in questo inizio di campionato Isernia Macchia sì un test importante e difficile per farci capire innanzitutto di che pasta siamo fatti quindi speriamo di portare dei punti a casa dei punti pesanti e importanti sì hai ragione perché sarebbero punti pesanti in bocca al lupo al gamba tesa da vita noi ci vediamo hai detto che non verrai all'Aragona di Vasto se vuoi il posto in macchina è assicurato ci puoi riflettere fino a sabato Gianni io però volevo dirti una cosa avrei dato il flop anche al tuo telefono stasera al mio telefono sì per problemi che ha avuto dei problemi al display però da bene capita andiamo avanti il top a Martinelli era un po' scontato però ce lo odiamo con tutto il cuore lo merita tanto Giuseppe Martinelli in bocca al lupo alla carriera di questo giocatore che ha debuttato in prima squadra si può dire come nei sonni migliori il debutto gol e la squadra vince esattamente bravo Giuseppe Tabita Gianni è stato un piacere ci vediamo lunedì prossimo è stato un piacere ospitarvi avervi qui con noi grazie e un in bocca al lupo ad entrambi grazie anche a voi per averci seguito questa sera noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21 buona serata Molise a calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio